... Manganellare uno che sta a protesta, aspetta, con gente che salta in aria. Signore, questa è la mia terra, tifosi, va bene? E la mia terra dovete andare via di qua, lo capite o no? E' chiaro? Andate via, andiamo comunque dalle campagne e denunciatevi. Pah! Denunciatevi. Pah! Denunciatevi. Pah! Denunciatevi. Ma che cazzo se l'aspettava che dovevo manccire? Ma non per andare a morire da qualche altra morte nelle foglie da dove state venendo? Si perde! Ma che cazzo se l'aspettava mancciare la vita che mi ho fatto a secondo? Si pietti la merda! Vergogna! Vergogna!